Ciao, sono Andrea, sono italiano, ci troviamo oggi a Nusa, stiamo nell'ostello Dolphys Beach House. Il posto è molto carino, ci troviamo a 5 minuti da Sunset Beach. Se prendi il pulmino puoi anche andare in centro città, qua il ostello organizza 9 pulmini al giorno per andare in centro a Nusa. La città è molto carina, è una cittadina sulla East Coast, saremo un paio d'ora a nord di Brisbane. Niente, l'ostello è carino, c'è il billiard, il ping pong, c'è una zona barbecue, le camere sono molto pulite, c'è una scelta sia di dormitori che di camere singole o doppie. Quindi c'è un po' di tutto. Ho apprezzato molto il fatto che ci sono un sacco di cucine, c'è una cucina ogni 10 persone più o meno, quindi non devi mai fare la cosa per cucinare, cosa che capita spesso in altri ostello. Vieni a farci un salto e divertiti. Ciao ciao! Ciao!